E la Coppa America vuol dire anche solidarietà. In occasione della regata finale, in programma per il 15, la struttura pediatrica Santo Bono aprirà al pubblico le terrazze della sede storica dell'ospedale Lina Ravaschieri che affaccia sulla rotonda Diaz. L'iniziativa in collaborazione con la Onlus Amici del Santo Bono punta a raccogliere fondi per la ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico.